Azioni in comune per il lavoro è il tema sul quale si è incentrato il confronto a Palazzo San Giacomo fra il Comune di Napoli ed Italia Lavoro, nel corso del quale è stato anche sottoscritto il protocollo d'intesa che prevede una serie di azioni messe in campo a sostegno delle politiche per il lavoro. Nel corso della conferenza stampa Italia Lavoro ha illustrato oggi i progetti messi in campo per sostenere l'attuale assetto produttivo, dal fronte innovazione a quello occupazionale, con particolare riferimento ai giovani e alle donne. Un sistema integrato tra politiche del lavoro, politiche sociali e politiche dello sviluppo. L'obiettivo è quello di creare un sistema di infrastrutture, un sistema di azioni che possa essere interpretato come una risposta reale alle esigenze della città. Le azioni sono tante, la prima che mi auguro si possa fare è quella di costruire in alcune municipalità dei centri di orientamento di servizi all'impiego che effettivamente siano all'altezza degli standard europei e che possano mettere insieme e collegare domanda di lavoro e offerta di lavoro, imprese e lavoratori. Misurarsi con la città anche sul tema del lavoro dunque, affidandosi a provate competenze e costruire un modello che prevede la presenza nelle municipalità di punti di orientamento per favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini napoletani. Ci sono modelli e buone prassi europee da seguire in questo campo e Napoli è la prima città d'Italia a fare questo percorso che pone particolare attenzione ai giovani ed allo sviluppo dell'imprenditorialità sul territorio. Siamo una città internazionale, guardiamo anche ad esperimenti positivi che accadono in altre parti dell'Europa, in particolare il presidente Rebuani di Italia Lavoro ha citato Londra come buona pratica diciamo di rapporti tra chi cerca lavoro, in particolare i giovani e la pubblica amministrazione, un'interazione che deve essere più forte rispetto a quella che c'è nel nostro paese in questo momento. Una macchina più all'altezza della sfida poter attrarre meglio investimenti, procedere verso una semplificazione della macchina amministrativa, meno burocrazie, poche regole ma certe e questo è uno dei tasselli del lavoro che ogni giorno stiamo facendo per migliorare la situazione economica e delle attività produttive della nostra città, lo facciamo insieme alle categorie sociali, categorie sindacali e per noi il lavoro è al primo punto, anche ieri sono stato a Roma, molti incontri che ho fatto hanno avuto il lavoro e l'economia al centro degli incontri.